Grazie. Tu lo conosci, Eriale? Eh. Lo stai vedendo? 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 Buonasera a tutti, sono Polonara Francesca, come mi ha già presentato la dottoressa Bettina Piccioli. Io lavoro in questura, come mi occupo in quest'ora, come mi occupo appunto di minori e di vittime vulnerabili. sono ormai? sono appunto donne. Si parla di violenza di genere, intendendo come vedete sulla slide che vi sto mostrando, come violenza di genere la violazione di tutti i diritti umani e la discriminazione contro le donne. Comprende tutta una serie di condotte diverse, insomma, si va dalla violenza sessuale alla violenza psicologica, quella economica, le minacce compiute, minacce di morte, le minacce, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata. Ora, diciamo che da 15 anni a questa parte la normativa è tutta a favore della donna vittima di violenza. Sempre più, fino allo scorso anno poi con la legge sul Codice Rosso, l'attenzione si è concentrata sulla vittima. Per intervenire prima, per dare un supporto che sia psicologico, legale, una casa rifugio in cui andare, una schiera di persone, una rete di soggetti da interessare affinché si possa intervenire al meglio. La polizia, le forze dell'ordine, i carabinieri non ce la farebbero da sole. Però quello che mi preme dire soprattutto è che quello che si inizia denunciando questi fatti di violenza, soprattutto mi occupo di maltrattamenti in famiglia, di atti persecutori, si dà avvio a un percorso che è innanzitutto quello di sottrazione da uno stato di violenza, quello di affrancarsi da una situazione fisica e psicologica che è intollerante. Come polizia noi ci occupiamo principalmente di raccogliere quelle che sono le segnalazioni di maltrattamenti e di atti persecutori. Sono due reati diversi, completamente diversi. Vorrei parlarne separatamente in maniera tale da non fare troppa confusione. Prima però vorrei dirvi che a Brescia e in provincia esiste tutta una rete di soggetti che interagiscono tra di loro quando viene segnalata una situazione in particolare. In particolare intendo dire che nel momento in cui una persona viene a fare denuncia per atti persecutori o per maltrattamenti o diversamente si rivolge a noi chiedendo un altro tipo di misura che poi vi spiegherò, tramite la polizia vengono attivati tutta una serie di servizi sanitari, il centro antiviolenza che può comunque fornire l'ospitalità e poi anche alle persone che ovviamente lo vogliono e poi ovviamente la possibilità anche di fare un percorso attraverso i centri antiviolenza che possono appunto ospitare i figli nel caso in cui ci sono e le mamme che lo desiderano. Purtroppo quando parliamo di atti persecutori soprattutto venendo proprio alla questione parliamo di un reato che si consuma tra due soggetti che sono stati precedentemente legati da una relazione sentimentale e questi soggetti uno dei due decide di rompere la relazione, questa è la situazione quella che avete visto di fatto nel video che si verifica più spesso, l'altro non è d'accordo o meglio per quello che si verifica più comunemente, gli atti persecutori non iniziano nell'immediatezza, iniziano dopo qualche tempo, iniziano dopo qualche tempo perché magari la persona che ha lasciato trova un nuovo fidanzato, una nuova fidanzata, capitano sporadicamente dei casi in cui gli atti persecutori siano perpetrati a carico di uomini ma è un'ipotesi che si verifica nel 2-3% dei casi, non perché questo non succede ma soprattutto perché gli uomini quando sono vittime di violenze da parte delle donne fanno un po' fatica a denunciare ancora più delle donne, questo devo dirlo perché comunque sia ad oggi nonostante il tanto parlare sempre troppo poco che se ne fa, il numero di donne che denunciano questo tipo di fatti si attesta intorno al 20%, il che significa che i casi seppur tanti che ci vengono segnalati sono comunque la minoranza rispetto a quelli effettivi. Quindi che succede? Tornando agli atti persecutori, succede che questa persona nel momento in cui viene a sapere che c'è un nuovo fidanzato non accetta questa situazione, non l'accetta perché magari prima i due soggetti sono stati legati da una relazione affettiva ma hanno avuto dei figli insieme, per cui non accetta che ci sia un altro uomo vicino ai suoi figli, non accetta che possa conoscerli, teme di perdere il suo ruolo come padre, cosa che io mi impegno a dire e a ripetere mille volte, non si finisce mai di essere genitori, si finisce di essere marito e moglie, fidanzato e fidanzata, ma l'amore per i figli seppure finisce una relazione non viene mai a mancare. Purtroppo però questo concetto fa molta fatica a passare, per cui iniziano una serie di vessazioni, di controlli da parte della persona che non accetta la nuova relazione che vengono poi a configurare gli atti persecutori. Dico una serie perché in gergo giuridico il reato di atti persecutori è un reato abituale, il che significa che perché si possa parlare di atti persecutori devono esserci una pluralità di episodi diversi tra loro ma tutti diretti verso lo stesso obiettivo che è quello di creare uno stato di ansia nella persona che li riceve, di modificare le sue abitudini di vita. Quindi la donna che si sente molestata non va più in palestra, cambia percorso ogni giorno per tornare a casa dal posto di lavoro, non esce più con le amiche, si fa accompagnare dai parenti per andare a fare la spesa perché lui la segue. È costretta a bloccare il numero di telefono cellulare perché lui le manda 80 messaggi al giorno, 90 messaggi al giorno fino a che lei non risponde. Per non dire dei social non ne parliamo neanche perché poi è facile e da codardi mi permetto di dire minacciare le persone o diffamarle sui social perché comunque sia magari postando storie e foto di momenti che si è vissuti nell'intimità. Poi se ci sarà tempo quando avremo parlato a sufficienza e non è mai a sufficienza gli atti persecutori vi spiegherò anche di un nuovo reato che il codice ha introdotto limitatamente a quella che è la divulgazione delle immagini private senza il consenso della persona. Quando succede questa cosa, questa serie di condotte moleste che ti fanno entrare in ansia per cui le donne si rivolgono poi a uno psicologo, tornano a vivere a casa dei genitori perché hanno paura stare da sola in casa. Che cosa si può fare? Io penso che questo sia il problema, l'informazione. Spesso si verificano queste cose però le donne fanno fatica a denunciare. Non lo so se dopo tutte le trasmissioni che sono andate in onda ieri dove è stato detto che si sono triplicate le denunce di questi fatti pervenuti alle forze dell'ordine, io mi sento di dire che per noi non è stato così. Mi sento di dire che a volte quando noi veniamo a conoscenza di questi fatti facciamo anche fatica, dobbiamo convincere le donne a fare un percorso, a fuggire da quella situazione di maltrattamento perché a volte purtroppo piuttosto che niente è meglio piuttosto per cui l'uomo è sì maltrattante però se mi aiuti mi aiuti a modo mio e questo tipo di richiesta arriva anche a noi ma noi non aiutiamo a modo della donna, noi aiutiamo a modo nostro soprattutto perché il mio ufficio è principalmente ufficio minori ma perché i minori secondo me vengono sempre prima di tutti e quando ci sono i minori in mezzo mi spiace ma prima vengono loro e poi tutto il resto. Quindi soprattutto anche quando ci sono i minori a volte le donne non accettano quelle che sono le indicazioni che vengono loro date per affrancarsi da una determinata situazione. Mi definisco principalmente alla possibilità, indipendentemente poi dalla denuncia o dall'ammonimento, poi vi spiegherò qual è la differenza e quindi indipendentemente da quella che sarà la strada che la donna decida di intraprendere per tutelarsi. Noi abbiamo prima di quello l'obbligo di porre la donna ove possibile, ove necessario soprattutto in una condizione di sicurezza e a volte è molto difficile fare questa cosa se da parte della persona non c'è una volontà di tutelarsi. La polizia può intervenire ma la prima persona a voler uscire da una situazione deve essere l'interessata perché se no noi non possiamo fare niente. Detto questo rispetto agli atti persecutori il legislatore, le leggi si sono portate avanti. In particolare tanti anni fa tante condotte tipo le minacce piuttosto che le offese, le ingiurie a carico della donna che si era separata costituivano quasi un comportamento lecito e quasi consentito per colpevorizzare la donna che aveva lasciato o magari aveva scelto di farsi un'altra vita. Gli stessi omicidi fino a vent'anni fa che venivano commessi erano considerati, erano puniti in maniera ridotta perché considerati delitti d'onore. Oggi non è più così. In particolare quelli riguardo agli atti persecutori dal 2009 il legislatore ha deciso di intervenire intanto introducendo il reato perché prima per configurarli era necessario ricorrere a tutta una serie di condotte, condottine, di riatucci come le percosse, le minacce. Lo schiaffo dato e denunciato come percossa in procura ha un peso che è circa 0,3-0,4 grammi, nel senso che è un reato che è di poco conto. Le minacce dipende, oggi neanche le minacce di morte sono più considerate minacce gravi. Serviva quindi un reato, quello appunto degli atti persecutori, che andasse a inglobare tutte insieme queste condotte punendole con una pena adeguata. Ma non solo. Il legislatore del 2009 si è reso conto che a volte si arrivava troppo tardi. A volte si arrivava troppo tardi perché tutti quegli atti persecutori degeneravano, degeneravano con degli omicidi. Io purtroppo sono intervenuta in un caso di atti persecutori una domenica mattina quando lo stalker aveva già fatto fuori la moglie, il nuovo compagno della moglie e due figli, o meglio la figlia di primo letto di lei e il fidanzatino di vent'anni. Questa persona doveva presentarsi da noi poco dopo. Quindi il legislatore che ha fatto ha introdotto uno strumento volto ad anticipare il nostro intervento, il più possibile. Prima ancora che ci sia un reato, prima ancora dello schiaffo, prima ancora delle ingiurie, prima ancora. Quando si verificano tutta una serie di atti che di per sé non sono reato, cioè 80 messaggi al giorno che vi manda un uomo non è reato. L'uomo che da facciamo da travagliato viene a fare la spesa con cesio così vi incontra al supermercato non commette nessun reato. Però se lo fa tutti i giorni, se lo fa tre volte a settimana, se viene in farmacia perché voi lavorate lì, ma abita a 50 chilometri da dove lavorate, c'è qualcosa che non va. Vi sto facendo degli esempi di cose che sono capitate e che di per sé sono tutti comportamenti che non configurano nessun reato singolarmente presi, ma tutti insieme sono il punto di partenza che poi degenera con la foto postata sui social, ma maledette ste foto, non ve le fate ste foto, ma è così bella proprio la realtà. Voglio dire che perdere tempo a fare foto in quei momenti io non lo so, perché finché poi le cose vanno bene, sai più bei i ricordi del mondo, ma quando le cose non vanno più bene diventano strumenti di tortura psicologica, ma strumenti di tortura, di ricatto. Ora quando si verificano tutte queste cose, perché non è necessario che si arrivi agli schiaffi che poi vi fanno andare in ospedale perché magari vi fa diventare un occhio grosso così, si può richiedere l'ammonimento. L'ammonimento è una misura di prevenzione, è una misura di prevenzione, non so se voi ne avete sentito parlare, è una misura di prevenzione e quindi una misura amministrativa, non è una denuncia nella sostanza. Nella pratica non si fa altro che rivolgersi a noi come questura o al comando stazione dei carabinieri di Concesio perché la competenza ad acquisire un'istanza di ammonimento che ripeto non è diversa dalla denuncia nel contenuto, ma solo si chiama istanza di ammonimento. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che non necessita che ci sia un reato perché si arrivi a richiedere l'ammonimento. Ha il vantaggio che è diretta a noi come questura perché competente ad emettere l'ammonimento è il questore. Se il problema di atti persecutori c'è ed è urgente, ha il vantaggio che nel giro di 24-48 ore al massimo noi emettiamo il provvedimento. Un provvedimento che non è altro che un atto scritto dal questore il quale a fronte delle dichiarazioni che voi avete fatto, quindi nell'istanza di ammonimento, voi dichiarate tutto quello che vi è successo, allegate gli screenshot dei messaggi che avete ricevuto, citate le persone che l'hanno visto in farmacia, che l'hanno visto otto volte al supermercato quando c'eravate voi, tre volte davanti al posto di lavoro al momento dell'uscita, raccontate tutto, orari, date, numero di volte in cui è accaduto, tutto il più possibile ordinato cronologicamente. A fronte delle vostre dichiarazioni i carabinieri ci mandano l'istanza di ammonimento, se venite da noi l'ufficio denuncia e ratifica l'istanza di ammonimento oppure telefonate a me in questura e vi fissiamo un appuntamento. A fronte della vostra istanza noi avviamo un'istruttoria che è rapida, significa che verifichiamo se sono fondate le condotte, se le condotte sono gravi in realtà possiamo anche omettere l'istruttoria ed emettere subito il provvedimento. Questo provvedimento che è amministrativo, se risolve il problema ha il vantaggio che non crea nello stalker nessuno strascico penale, per cui non è che gli va a macchiare la fedina penale. Se anche viene emesso il provvedimento ma la persona si ferma o noi non emettiamo neanche il provvedimento e archiviamo tutto in un lasso temporale che al massimo è di tre mesi, se anche emettiamo il provvedimento ma lui non fa più niente rimane comunque un provvedimento amministrativo. E questo è quello che succede nella maggior parte dei casi ed è il motivo anche per cui vi sollecito a ricorrere a questo strumento, perché comunque questo strumento intanto è una cosa, può essere utilizzato soltanto se non è già stata fatta una denuncia per gli stessi fatti, per cui quando voi venite in questura o andate al comando stazione dei carabinieri dovete andare a chiedere l'ammonimento e precisare che per gli stessi fatti non avete mai presentato denuncia, perché se è stata presentata denuncia purtroppo io non posso più fare nulla, non posso più ricevere la vostra istanza, perché ci sarà già un procedimento penale, tra l'altro rientrante dai reati di codice rosso, iscritto in procura. Ma se voi non avete fatto denuncia, e questo è importantissimo perché l'ammonimento si può chiedere soltanto prima di aver fatto querela per lo stesso reato, perché è un reato procedibile a querela di parte. Non voglio parlarvi di diritto ecco, però una spiegazione ve la devo fare, sicuramente magari qualcuno lo saprà e lo meglio di me, però tutto il codice penale si divide in reati che sono procedibili a querela e reati che sono procedibili d'ufficio. Gli atti persecutori sono un reato procedibile a querela, significa che se anche voi andate a fare una denuncia, quella che volgarmente viene detta denuncia ma in realtà è una querela, dovete dire chiaramente che volete procedere penalmente nei confronti di quel soggetto per gli atti persecutori che ha commesso. Ma io vi dico prima di fare la querela fate l'ammonimento. Perché? Perché dopo non lo potete più fare e perché nella maggior parte dei casi risolve il problema in maniera più veloce ed efficace. Se non lo risolve perché la persona continua a disturbarvi, dopo che è stato emesso l'ammonimento, il reato di atti persecutori diventa procedibile d'ufficio. Che significa? Significa che per qualsiasi tipo di condotta, se anche soltanto la persona si presenta ancora in farmacia, perché ormai abbiamo fatto questo esempio, viene sotto casa vostra a suonarvi il campanello? Se voi chiamate i carabinieri perché poi ecco a Concesio non arriverò mai io e non arriverà nemmeno la volante, arriveranno i carabinieri perché sono sul territorio e lo trovano lì a suonare il campanello, lo arrestano. È previsto l'arresto obbligatorio in flagranza nei confronti del soggetto ammonito. Mentre prima era un reato procedibile a querela che per l'amor di Dio rientra sempre tra i reati del 300 procedibili d'ufficio, ma è molto difficile fare un arresto per atti persecutori quando si interviene la prima volta. Se però c'è già l'ammonimento è quasi un automatismo, ma non solo. Se lui fa in tempo a scappare dopo che è stato fatto l'ammonimento si scrive direttamente in procura e quindi quell'atto procedibile a querela diventa procedibile d'ufficio e la procura provvederà ad emettere una misura cautelare, visto il fatto che l'ammonimento non è stato sufficiente come deterrente a far cessare le condotte. La procura in questi casi, nel caso di denuncia per atti persecutori, procede in maniera velocissima adesso perché da quando c'è il codice rosso entro tre giorni viene sentita la parte offesa, l'attività di indagine, la comunicazione che si fa deve essere il più esaustiva possibile, dopodiché nella maggior parte dei casi emetterà un divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi frequentati alla parte offesa. La procura purtroppo ha i suoi tempi, per cui quello che io vi dico fate l'ammonimento intanto perché noi interveniamo prima. Il problema che poi si verifica qual è? Quello che si verifica quando interviene la procura e se voi scegliete di fare subito la querela perché anche nella querela poi o voi direttamente o il comando stazione che interviene o l'avvocato perché la querela può essere pure depositata direttamente in procura tramite l'avvocato chiederà una misura che è il divieto di avvicinamento ma la misura chiesta in procura ha dei tempi diversi. Può passare una settimana, due settimane, tre settimane, dipende. In questo tempo che cosa fate? Come vi ho detto prima io consiglio alle persone se non si sentono al sicuro magari di andare a stare da una persona amica, di far venire una persona a stare a casa con loro. Il centro antiviolenza quando le persone si rivolgono a noi nel momento stesso in cui ratifichiamo l'istanza le informiamo dei centri antiviolenza che ci sono sul territorio, di rivolgersi a loro per avere un sostegno psicologico se ne sentono il bisogno, di rivolgersi a loro perché comunque hanno diritto al gratuito patrocinio. Questa è una questione tecnica ma non è da sottovalutare perché il motivo per cui molte donne non si rivolgono alla polizia quando hanno problemi di questo tipo è che poi non sanno come pagare l'avvocato. L'avvocato non lo pagate perché l'avvocato in tutto questo tipo, negli atti persecutori ma anche nei maltrattamenti, nella violenza sessuale, in tutti quelli che sono i reati che rientrano nell'ambito della violenza di genere, l'avvocato lo paga lo Stato per la parte offesa e questo a prescindere da quelle che sono le condizioni di reddito. Per cui non è che se la donna, se qualsiasi lavoro fa la donna, qualsiasi sia il reddito, per questo tipo di reati c'è il gratuito patrocinio. Per darvi dei numeri posso dire che in quest'anno, l'anno scorso avevamo avviato circa 160 istanze di ammonimento, circa 160 procedimenti. Di questi procedimenti forse 25-30 sono sfociati con l'emissione di un ammonimento vero e proprio. Questo che cosa significa? Questo significa che tutti gli altri, nell'arco dei quasi tre mesi che dura la nostra istruttoria, le condotte sono cessate. Per cui i problemi che abbiamo rappresentato, che ci sono stati rappresentati con l'istanza e che noi abbiamo comunicato allo stalker, perché se le cose non sono gravi non è che noi ci mettiamo a fare subito il provvedimento. Trattandosi di un'attività amministrativa, che facciamo noi? Chiamiamo lo stalker, chiamiamo lo stalker e gli facciamo una comunicazione di avvio del procedimento. Gli diciamo insomma guarda, e questo glielo diciamo il giorno stesso, per cui se facciamo esempio domani voi vinti da me, io sabato mattina lo chiamo, un giorno, due giorni, dipende un po' dalla gravità, e ti dico senti, le cose stanno così, questa persona, la tua ex fidanzata si è rivolta a noi perché tu continui a chiamarla, perché vai a controllarla sul posto di lavoro, perché gli è messo il GPS nella macchina. Sì, arrivano anche a questo. Non si tratta di amore e non si tratta nemmeno di gelosia, si tratta di possesso, di monitorare a tutti i costi la vita di un'altra persona. Non si riconquista proprio niente facendo così, questo glielo dico sempre. Poi una cosa gli dico a questi uomini. Non solo così perderai, non riacquisterai niente, ma se ci sono i tuoi figli con la persona che stai perseguitando, rischi anche di perdere i tuoi figli, perché la storia può andare avanti fino a un certo punto, ma poi noi siamo costretti a segnalarti al tribunale per i minorenni, perché se ti comporti così con la madre dei tuoi figli e la tua ex compagna, non è detto che tu sia un buon padre. Così come dico alla donna che sottosta a certi comportamenti che non è una buona madre. La violenza assistita è a tutti gli effetti equiparata alla violenza subita. Che significa? Significa che dire alla vostra donna che non vale niente, che è una poco di buono, che è una prostituta perché si accompagna con un altro uomo dopo di voi e farlo davanti ai figli è come dirlo direttamente a loro. Non cambia niente. Fermo restando che nei casi in cui, perché succede anche questo, i genitori ricordano ai figli per monitorare o maltrattare o perseguitare la compagna e gli atti persecutori sono rivolti ai figli, in quel caso l'ammonimento non lo proponiamo neanche perché tutta l'attività è procedibile d'ufficio. Scriviamo direttamente alla procura. Così come scriviamo direttamente alla procura, perché questo è un altro atto che piace tanto, tantissimo alle persone che compiono atti persecutori, rigare la macchina. Rigare la macchina, tagliare le gomme sulla pubblica via è un reato procedibile d'ufficio. Tutte le volte che tra le condotte di atti persecutori, anche quando si viene a fare l'ammonimento, c'è una condotta procedibile d'ufficio, non si fa l'ammonimento, si fa direttamente la denuncia. Quindi io dico a questi uomini, questo è un cartellino rosso, ma si può trasformare in un jolly se tu lo saprai sfruttare bene, perché io, i componenti del mio ufficio, noi vinciamo quando non ci arriviamo all'emissione dell'ammonimento, perché lo stalker non è sempre un delinquente abituale. Ovviamente se lo stalker è la persona che vive di espedienti, che spaccia dalla mattina alla sera, che fa le rapine, che non lavora e vive di risse e ne combina una dopo l'altra, l'ammonimento non servirà a niente. Ma nella maggior parte dei casi lo stalker è una persona che più o meno di buona condotta, che va un po' infissa. Si fissa che deve mantenere il possesso su una determinata situazione e non riesce a mollarla. A volte, senza voler essere troppo presuntuosa, il nostro intervento, non mio ma mio e dei miei collaboratori, riesce a fermare per un attimo questi soggetti, a farli riflettere e a farli cambiare condotta. Quando si presentano da noi, e i fatti non sono troppo gravi, come ripeto, noi gli facciamo questa comunicazione di avvio, rispetto alla quale hanno dieci giorni per fornirci la loro versione dei fatti, perché poi c'è un altro problema, ma ve ne parlerò tra due minuti. e diciamo loro che se si sentono in difficoltà in questo momento ci sono dei centri, in particolare il cerchio degli uomini, che è la struttura per la cura degli uomini maltrattanti accreditata sul territorio, a cui possono rivolgersi per iniziare un percorso, per chiedere un aiuto dal punto di vista psicologico, noi non possiamo obbligarli ad andare, però sia quando facciamo la comunicazione di avvio e ancora di più quando facciamo l'intimazione del provvedimento, abbiamo il compito di dirglielo, perché comunque sia queste strutture esistono, ci sono e funzionano. Ma questo anche perché molto spesso, molto spesso non tanto negli atti persecutori, ma anche negli atti persecutori, ma soprattutto nei casi di maltrattamento, sono numerosissimi i casi di rientro in famiglia di queste persone maltrattanti. Per cui in questi casi soprattutto, aver fatto un percorso, essersi concessi un momento di riflessione, può fare la differenza su ciò che si sbagliava, su ciò che può essere fatto diversamente. Anche questo messaggio fa fatica a passare, perché a volte il fatto di andare da uno psicologo, da uno psicoterapeuta, viene visto come è, ma io non sto male, non si tratta di stare male. I psicologi non aiutano i pazzi, per quello ci sono gli psichiatri. Tutte le persone possono avere bisogno di uno psicologo, di una persona con cui parlare e con cui confrontarsi per vedere dove c'è l'errore, dove si sta sbagliando, perché si sta sbagliando. A volte i problemi relazionali, quando raggiungono certi livelli, affondano radici profonde, magari nel passato, in un'adolescenza trascorsa in modo particolare. Comunque sia, io penso che sia fondamentale, importante, riconoscere di avere un problema e cercare un aiuto. Non mi dimentico di quello che dico. Quando vi ho detto dell'avvio, quando i fatti non sono gravi e noi facciamo la comunicazione di avvio del procedimento, informando lo stalker di quello che gli viene contestato, diciamo anche a lui che ha dieci giorni di tempo per fornire la sua versione dei fatti. Ora, a volte, questo perché, a volte la persona viene da noi e ci dice però mi manda 50 messaggi al giorno, non risponde mai, quando si prende i figli non mi fa mai sapere dov'è, quando non paga mai le spese per il mantenimento. Ecco, allora, uno, l'ammonimento non sostituisce il lavoro degli avvocati in sede civilistica che non si muovono per gestire le situazioni tra coppie in separazione. Due, dire che un marito è violento, che l'ex marito, padre dei propri figli è violento solo per ottenere l'affido esclusivo, non è la funzione dell'ammonimento. Purtroppo abbiamo una percentuale che non è bassa perché si aggira intorno al 30%, negli ultimi tre mesi abbiamo ricettato quasi 20 istanze di ammonimento perché non ce n'erano i presupposti, questo strumento diventa il modo per aggirare certi ostacoli. Non è così, noi abbiamo avuto donne che si sono presentate da noi, una in particolare, la ricordo ancora, la mattina, una mattina si presenta da noi e dice vuole fare un'istanza di ammonimento urgentissima perché lei ogni volta che esce a camminare col cane incontra questa persona, questa persona suona dieci volte al giorno, c'è mio figlio che dorme in casa con me, ora io come devo fare, mi telefona cento volte al giorno, se passo al bar mi insulta, mi offende. Io voglio che smetta con questo suo comportamento. Beh, sentiamo tutti i condomini di quel condominio, nessuno sente il campanello suonare, nessuno. La persona abita di fronte a lei e ha un cane più grosso del suo per cui, ma soprattutto, quando noi lo chiamiamo... Eccoci qua, scusatemi per l'interruzione, la tecnologia purtroppo ha questi limiti, mi sarebbe piaciuto incontrarvi di persona ma in questo periodo non è possibile. Ecco, per finire a raccontarvi comunque, alla fine quando lui ci ha portato la foto di lei che dormiva a casa sua, ci ha spiegato che il bar, come mi dicevo, dove la insultavano era il bar di questo ragazzo, era il suo bar, per cui dice erano i suoi amici. Praticamente che cosa era successo? Era successo che quando lui l'ha messa di fronte a una scelta, o me o tuo marito, lei ha scelto la busta paga del marito. E quindi gli ha detto basta, adesso non venire più a cercarmi, non voglio più sentirti, non voglio più vederti, non vengo più a dormire a casa tua, però a lui non è che gli è andata tanto bene, subito non gli è andata subito bene, nel senso che io a volte dico, quando due persone si lasciano comunque c'è un momento di decompressione, di accettazione di una situazione che non si è scelta e che è capitata. Questo è quello che era successo, insomma quel giorno l'istanza l'abbiamo rigettata senza nemmeno avviarla, l'avvio non gliel'abbiamo fatto proprio. Questo per dirvi che chi pensa di fare l'ammonimento per tutelare altri tipi di situazioni in realtà fa perdere tempo a noi e ruba il tempo alle persone che avrebbero effettivamente bisogno e che magari devono aspettare perché prima dobbiamo trattare il loro rigetto. Rispetto agli atti persecutori non si finirebbe mai di parlare, anche perché sono un reato generico, questo ve lo voglio dire perché nell'80% dei casi si sente parlare di atti persecutori in relazione ad un rapporto sentimentale che è finito e questa in realtà è la maggior parte della casistica. Tuttavia abbiamo avuto molti casi, diversi casi di atti persecutori sia a livello condominiale sia a livello di persone magari che lavorano insieme. Ecco questo ve lo voglio dire perché il reato di atti persecutori non è in maniera specifica legato alle donne o alle coppie precedentemente legate da un rapporto sentimentale perché poi affinché si parli di atti persecutori lo stalker e la vittima non devono essere conviventi perché diversamente, e qui volevo arrivare, diversamente si parla di un altro reato che sono i maltrattamenti in famiglia verso conviventi, non più in famiglia perché comunque sia questo reato oggi è stato esteso anche alle famiglie di fatto, quindi alle famiglie, ai nuclei familiari composti da soggetti caratterizzati da una convivenza stabile a prescindere dal fatto che vi sia alla base un rapporto matrimoniale, un contratto di matrimonio o meno. Il reato di maltrattamenti diversamente dagli atti persecutori si configura quando le persone vivono insieme, quindi la convivenza è alla base della configurazione di questo reato. È un reato per il quale si procede d'ufficio, per cui se la donna che viene maltrattata in casa dal punto di vista psicologico, dal punto di vista economico, oltre che dal punto di vista fisico, chiama l'112, interviene la volante, intervengono i carabinieri sul territorio, se c'è la possibilità, se colgono la persona in flagranza, la restano, la portano via. In realtà se intervengono in flagranza, se anche l'uomo si è allontanato da poco, possono comunque intervenire allontalandolo, chiamando il magistrato di turno e chiedendo l'allontanamento di questa persona. Se il problema è grave con gli atti persecutori rispetto alle poche segnalazioni, con i maltrattamenti verso familiari e conviventi è allucinante. Sono pochissime e ancora di meno durante il periodo di lockdown le persone, le donne, vittime di violenze in ambito domestico che si rivolgono alla polizia. Abbiamo avuto un caso addirittura di una donna che non voleva far entrare in casa la volante, i poliziotti chiamati da vicini, da persone che avevano sentito delle urla, perché diceva non posso farvi entrare, perché se no mio marito mi picchia. Noi siamo qui apposta, siamo qui apposta perché no, non voglio farvi entrare perché mio marito mi picchia. Alla fine sono riusciti ad entrare, di tutto questo è stato fatto un intervento, quando abbiamo richiamato la signora ha quasi negato tutto, volendo far apparire come normali cose che di normale non avevano niente, volendo far apparire come normale il fatto che una persona non può avere il numero di un uomo sul proprio telefono cellulare. È costretta, se si è rivolta a un centro antiviolenza perché ha ritenuto di dover fare quel passo per avere un aiuto, un sostegno psicologico, non può salvare il numero del telefono come centro antiviolenza perché non le ha permesso, però questo è normale. Non può chiamare una persona in presenza del marito, non può venire in questura a parlare con noi perché ha timore di essere seguita, ma è normale. Per cui quando le proponiamo di andare in un centro antiviolenza, quando si è mosso personale del centro antiviolenza perché vuole aiutarla, no grazie, no grazie perché adesso lui è cambiato e poi i ragazzi stanno bene con lui perché comunque lui è un buon padre, poi adesso ha trovato un lavoro, sì sì, non ha lavorato per due anni, adesso un mese lavora e magari finché lavora rompe meno le scatole perché è via tutto il giorno. Questa è poi la situazione. Questo è il fatto che poi le donne non si fanno aiutare e crescono figli maschi che riterranno giusto trattare così le loro compagne e figlie femmine che riterranno giusto farsi controllare il cellulare dal compagno, dal fidanzato, dal marito. In questo senso dico che le donne che accettano questo tipo di situazione non sono tutelanti. Io mi arrabbio moltissimo quando vengono in ufficio, moltissimo. Voglio fare un ultimo cenno prima di salutarvi e mandarvi a cena perché so che a Brescia si mangia abbastanza presto. Non a casa mia, io sono marchigiana per cui si mangia tardi quando è sceso il sole. d'estate, d'inverno anche comunque. Scusate la battuta ma ci stava. Volevo, anche perché adesso mi sono un po' abituata a parlarvi in questa maniera un po' assurda, volevo farvi accennare al fatto che nel 2013 il legislatore è intervenuto proprio su quelle che sono le violenze domestiche, che sono un po' il preambolo dei maltrattamenti in famiglia veri e propri, cioè quelle condotte si spia, lo schiaffo, la parolaccia, la lite un po' più accesa, ti lancio il piatto, tutte quelle situazioni magari interviene la nostra volante, quando arriva la situazione è tutto sommato rientrata, non si fa niente perché non ci sono motivi per intervenire, la donna non ha lividi, dice no no è stato un momento, abbiamo discusso, non c'è nessun problema, le parti vengono informate che hanno la possibilità di fare, di presentare una querela, se ritengono di aver subito delle lesioni, se sono state picchiate, però poi la volante se ne va, non se ne va però a mani vuote, nel senso che noi abbiamo un protocollo che impone alle volanti di annotare tutte le caratteristiche di quell'intervento, di fare un'annotazione che poi viene trasmessa a me e di metterci a conoscenza di quel fatto. Rispetto a quel fatto noi, grazie a questa legge a 119 del 2013, possiamo avviare d'ufficio un procedimento di ammonimento diverso da quello di cui vi ho parlato prima. Si tratta di un, anche perché interviene appunto nell'ambito della violenza domestica, non necessita di un'istanza di parte, per cui non c'è bisogno che io chiami la persona e dica guardi signora venga da me perché così faccio l'istanza, avvio un'istanza di ammonimento nei confronti di suo marito. No, lo posso fare d'iniziativa. Diciamo che è una misura che rispetto all'ammonimento degli atti persecutori non porta conseguenze, non va a modificare quello che è il reato che si potrebbe verificare se questo tipo di condotte continuano, cioè quello dei maltrattamenti. Perché? Perché il reato di maltrattamenti, come vi ho già detto, è un reato procedibile d'ufficio, per cui se i fatti non sono di lieve entità e non si possono qualificare come violenze domestiche, chi interviene, interviene già per maltrattamenti e procede alla comunicazione dei fatti alla procura, che poi aprirà un procedimento penale per questa cosa. Quando i fatti sono lievi, lo stesso quando magari una persona si reca in ospedale perché dichiara che è caduta dalle scale, perché io non so perché tutte queste donne cadono dalle scale, sbattono contro le porte, contro la sedia, contro la scopa, perché questi sono, ormai riconosciamo tutte le scuse che si inventano, però i medici, qualcuno fa finta di niente perché non ha voglia di fare, può darsi, ma pochi. La maggior parte ci segnalano tutti questi fatti e questi fatti che ci vengono segnalati dagli ospedali sono per noi motivo di fare un approfondimento, un approfondimento che in quel caso può essere sì, chiamiamo la persona, facciamo una telefonata, vediamo come va e poi eventualmente pensare ad un ammonimento, ad un ammonimento che viene appunto fatto proprio ai sensi dell'articolo 3 di questa legge che è la 119 del 2013, usate bene internet e i cellulari e andate a vedere quando si può fare. Che cosa succede con questo tipo di ammonimento? Succede che noi chiamiamo lo stalker, quindi gli possiamo fare l'avvio, oppure se i fatti sono lievi, ma non proprio lievissimi, se comunque non è la prima volta che la volante interviene, ma è la terza, se la volante è intervenuta due volte, poi c'è il referto dell'ospedale, comunque se sono le condotte sono lievi, lievi sono più di una, possiamo fare anche direttamente il provvedimento, che non è altro che un richiamo formale fatto da noi. In questa sede, quando noi chiamiamo la persona, gli facciamo un'intimazione scritta, che significa che ci parliamo proprio chiaramente, guarda che queste condotte devono cessare, perché prima la prossima volta che interviene la volante ti denunciano per maltrattamenti e poi devi prendere un avvocato e poi magari ti allontanano dalla casa familiare e poi magari vedi i tuoi figli in modalità protetta. secondo, non è il caso di continuare e noi ti consigliamo di recarti presso il centro per la cura degli uomini maltrattanti. L'unica finalità che ha questo tipo di strumento è questa, perché poi gli interventi successivi, purtroppo come ce ne sono, se si ripetono i fatti, seguono la via della procura. Quello che serve però è che in questi casi soprattutto la percentuale degli uomini che rientrano in casa dopo questi fatti è altissima. È altissima perché? Perché poi passa il mese, passa due mesi, voglio vedere i figli, farmi stare solo stasera. Qual è però il grosso, grossissimo limite di questo tipo di intervento? che le persone convivono. Il marito e la moglie, il compagno e la compagna convivono. Per cui se io lo chiamo e gli faccio l'ammonimento articolo 3, gli dico ehi, guarda che qua sei arrivato al limite, basta, basta vai al centro antiviolenza, fatti curare perché tutte le parolacce che dici ogni sera, lanci il piatto perché non ti piace quello che mangi, non ci siamo. Non stai bene? Fattene fuori casa. Stai bene? Cambi comportamento. Ma come possiamo farlo? Se noi lo chiamiamo, poi lui torna a casa e lì c'è la moglie coi figli. Magari si arrabbia più di più e siamo noi, noi come polizia, a generare quella condotta più grave, più pericolosa che poi fa intervenire la volante, parte la comunicazione di reato, la donna deve essere collocata in tutta fretta, si è viva perché a volte poi... questo rappresenta un grosso limite. Per cui che facciamo? Come sempre, come prima, oggi, domani sarà sempre così, la prima a volersi far aiutare deve essere la vittima. Per cui proponiamo alla vittima di andare per qualche settimana in un centro antiviolenza. Non ci va quasi mai. Perché sono vittime, ma non vogliono andare in quella che vedono come un carcere, purtroppo. In un luogo dove sì, c'è una casa, c'è un letto, c'è una cucina, ma devono attenersi a tutta una serie di regole. Non è casa loro. Allora accampano, però devo andare al lavoro, però i figli devono andare a scuola, però non mi posso spostare da Brescia perché ho i miei... Io un po' li capisco. E infatti quando è possibile, magari diciamo, ma non hai un'amica, una sorella, una parente, una persona che ti può ospitare per qualche giorno, tanto che noi abbiamo tempo di parlare con questa persona e di fargli capire, accettare che quella che gli stiamo dando è un'opportunità di cambiare in vista magari di un futuro, se ce n'è la possibilità lontano, ma comunque se ce n'è la possibilità di tornare a stare insieme, oppure di proseguire ognuno per la propria strada, continuando comunque ad essere genitori se ci sono dei figli, continuando comunque a mantenere un rapporto civile proprio perché ci sono i figli. in realtà quest'anno penso che non ne avremmo fatti più di 4 o 5 e sono pochissimi. Come vi dicevo prima, quando la signora non ci fa entrare in casa, perché se noi entriamo in casa il marito la picchia, perché pensa che siamo stati noi, che sia stata lei a chiamare la polizia e non è stata nemmeno lei, perché fortunatamente qualcuno più sensibile di lei si è preoccupato e ha chiamato, finché troviamo questo tipo di mentalità, non servirà mai il nostro aiuto, non servirà mai. E alla fine comunque questa signora rischierà moltissimo perché io sono fermamente convinta che prima o poi, prima o poi, finita la luna di miele, dovuta al fatto che poi la polizia l'ha richiamato, così la chiamano, la luna di miele, il periodo di calma dopo il terremoto, dopo che c'è stato l'intervento della polizia che ha sgridato tutti, state attenti, e poi ricomincia peggio di prima. E poi dallo schiaffo passa la coltellata, tanto mentre i figli crescono, vedendo quella scena, tutti i giorni, sempre peggio, normale, una scena normale, quando di normale non ha proprio niente. Mi spiace non poter ricevere delle domande e soprattutto se non sono stata chiara nel parlarvi di queste cose, se ne potrebbe parlare all'infinito, le domande e le risposte non sono mai abbastanza perché poi ogni situazione è diversa. Io vorrei soltanto concludere dicendo che noi in questura accogliamo tutti, se avete un problema vi aspettiamo, utilizzate gli strumenti di cui vi ho parlato perché ci sono, ma soprattutto affrancatevi da queste situazioni che fanno parte della vita, ma non sono la vita, perché la vita dovrebbe essere dedicata ad altro, a cose belle comunque che danno soddisfazione a rapporti sani. Nessuno ha stabilito che dobbiamo stare per tutta la vita con una persona, però se decidiamo di starci facciamolo nel massimo rispetto. Il rispetto è dovuto a prescindere dal tipo di rapporto, il rispetto è alla base di tutto, il rapporto tra fidanzati, tra coniugi, tra colleghi di lavoro, è alla base di tutto e questo è fondamentale. Io vi ringrazio e tramite comunque il Comune se avete dei problemi particolari, delle domande particolari da rivolgerci, sicuramente non mancherà l'occasione di darvi delle risposte, di fissarvi un appuntamento se avete bisogno e prima di concludere questa serata che spero sia stata utile, vi lascio ad una poesia che Valentina dedica proprio a voi e a questa materia e a questo tema di fondamentale importanza. Prego Valentina. Di Mariangela Gualtieri tratta da Quando non morivo edizioni Einaudi Bambina mia Bambina mia per te avrei dato tutti i giardini del mio regno se fossi stata regina fino all'ultima rosa, fino all'ultima piuma. Tutto il regno per te e invece ti lascio baracche e spine polveri pesanti su tutto lo scenario battiti molto forti palpebre cucite tutto intorno Ira nelle periferie della specie e al centro Ira Ma tu non credere a chi dipinge l'umano come una bestia a zoppa e questo mondo come una palla alla fine Non credere a chi tinge tutto di buio pesto e di sangue Lo fa perché è facile farlo Noi siamo solo confusi credi Ma sentiamo Sentiamo ancora Sentiamo ancora Siamo ancora capaci di amare qualcosa Ancora proviamo pietà Tocca a te ora A te tocca la lavatura di queste croste delle cortecce vive C'è splendore in ogni cosa Io l'ho visto Io ora lo vedo di più C'è splendore Non avere paura Ciao faccia bella gioia più grande L'amore è il tuo destino Sempre Nient'altro 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 Nient'altro